Ci sei Jarvis? Al suo servizio signore. Analisi delle superfici di controllo? Come desidero. Sì, mi serve la situazione meteo e del traffico aereo. Intercetta il controllo a terra. Signore, ci sono ancora terabyte di calcoli da eseguire prima di tentare un vero e proprio volo. Jarvis, a volte devi rischiare l'incertezza per avere una certezza. Pronti? E... 3... 2... 1... Vediamo che sa fare. Qual è il record dell'SR 71? Il record d'altitudine per il volo ha dalla fissi di 85.000 piedi, signore. I record sono fatti per essere superati. Via! Signore, è in corso un accumulo di ghiaccio potenzialmente fatale. Continua! Più in alto! Siamo congelati, Jarvis! Iper-sostentatori! Jarvis! Dobbiamo rompere il ghiaccio! No! Siamo congelati!